Buongiorno, sono il dottor Enrico Muccioli, il direttore del parco acquatico Aquafan di Riccione. Aquafan ha iniziato ad operare 24 stagioni fa. Nel corso degli anni è stata ampliata, arricchita e abbiamo aggiunto numerose attrazioni. Nel 1990 abbiamo iniziato con il kamikaze inaugurato da Alberto Tomba e poi abbiamo realizzato altri scivoli fino al 1999 quando abbiamo fatto l'Extreme River che rimane lo scivolo più bello e più emozionante del parco inaugurato da Jenny McCartney per poi passare al 2003 allo Speed Rihull e non ultimo, anzi ultimo in ordine di tempo ma il più importante che è poi la novità 2010 è lo Strizza Cool inaugurato dal nostro Paolo Cevoli, un romagnolo doc. La pista verde è una pista più lunga, destinata alle famiglie con bambini mentre la pista bianca è una pista più adrenalinica, destinata prevalentemente ai giovani. La novità e il bello di questa nuova attrazione è che sono consentite le discese di gruppo. Tra le novità 2010 di Aquafan c'è anche l'Ello Kitty Store L'Ello Kitty Store è il primo negozio monomarca con tutti i prodotti e lo kitty che è stato aperto in Italia è un progetto che ha riscosso un grandissimo successo e ha rafforzato il brand di Aquafan La forza di Aquafan ovviamente è la sua struttura, i suoi scivoli, il suo mito, cioè la sua magia e tutto quello che da tantissimi anni lo sta rendendo famoso in tutta Italia e tutta Europa C'è anche un altro aspetto da sottolineare ed è tutto il sistema degli eventi tutte le situazioni che vengono create quotidianamente e quelle create magari proprio ad hoc in giornate particolari Noi organizziamo diverse iniziative dalla gara mondiale di Baccio fino a tutta una serie di eventi legati alle Wings poi tutta una serie di eventi come il raduno di The Sims lo so, i tornei di Xbox, l'Xbox Day tutti legati diciamo al target adolescenziale e poi c'è praticamente tutta l'attività per il nostro pubblico primario che sono i ragazzi e quindi le iniziative anche in collaborazione con il Cocoricoco con la Baglia Imperiale e tutta un'altra serie di eventi cioè la nostra idea è che in Aquafan deve sempre succedere qualcosa